Massimiliano tu hai qui la suocera a Ricomigliare? La mia suocera, sì sì, la mamma di mia moglie. Come avete saputo? Dai social, dai TG regionali, insomma abbiamo saputo di questa disgrazia. Grazie a Dio non c'è stato nessun ferito, questa è già una cosa importante. Però siamo tutti preoccupati perché adesso si è messa in moto la macchina dei soccorsi, degli aiuti tra le varie strutture e ci hanno detto che gli ospiti verranno smistati nelle varie strutture, appunto dove troveranno posto, ospedali eccetera, però siamo tutti allarmati perché comunque gli ospiti sono persone anziane con problematiche di salute e giustamente saranno super spaventati. Siete riuscite a parlare con la suocera? No, con lei no, direttamente no, anche perché comunque non sarebbe in grado, però sono state disponibili le dottoresse della struttura per tenerci informati e hanno cercato di tranquillizzarci appunto per dirci che stavano tutti bene, a parte il grande spavento. Sapete dove la porteranno? Non lo sappiamo ancora, siamo venuti qua a vedere appunto dove ci diranno. Non li lasciano passare? Ci hanno fatto passare fino a qua, abbiamo fatto un pezzo a piedi perché la strada è chiusa, però abbiamo trovato anche gli agenti della polizia locale molto disponibili e faccio avvicinare il più possibile insomma. Grazie. Grazie a voi.